Mi chiamo Jules, vivo in un paesino in provincia di Treviso e ho 17 anni. Molti miei amici mi definiscono l'ansia in persona. Io ho molta ansia, l'ansia fa sempre parte di me, perché comunque voglio sempre dare il massimo. Magari se in una situazione non ho ansia, poi mi viene ansia perché penso, mamma mia non ho ansia, e se non ho ansia non rendo al massimo. Quindi è un'ansia continua. Non ho quelli sulla lingua, quando devo dire qualcosa lo dico. Sono una persona molto diretta, a volte anche troppo, infatti i miei amici mi dicono, Giulia, calmati per favore, perché magari a volte la situazione degenera un po'. Sono fidanzata con Francesco e sto con lui da più o meno un anno, poco più. Sì, sono follemente innamorata di lui. Mi mancherà sicuramente, però io ho sempre con me la maglia che lui mi ha regalato. E io con questa maglia ci dormo tutte le notti, quindi è come se ce l'avessi sempre con me. Pratico ginnastica artistica da molti anni e lo faccio a livello agonistico. Poi mi sono appassionata all'arte della magia, grazie a mia sorella. È una cosa da persone intelligenti. Io mi reputo comunque intelligente e mi piace stupire le altre persone. Io sono una persona determinata e quindi se voglio qualcosa arrivo sempre al dunque. Girl power! You've got the power now!